Buongiorno e buona domenica 18 ottobre 2020, 7.45 precisi in questo momento. Bene, allora parliamo degli anticipi di ieri sera della Lega Basket Serie A1 2021 dove Cremona tra le un amiche ha battuto Varese 80-67 mentre Pesaro di Jasmin Repesha purtroppo ha dovuto cadere il cospetto di Trento per 71-57 ovviamente in casa pesarese. Quindi per quanto concerne la classifica possiamo dire che per chi ha giocato le partite di ieri al momento Cremona è quinta, due vinte e due perse. Nota statistiche è stata la seconda vittoria di fila dopo le prime due battute d'arresto di fila. Varese nona, due vinte e due perse, per lei l'opposto. Ora due sconfitte di fila dopo le prime due vittorie di fila. Trento prima vittoria stagionale dopo le tre sconfitte consecutive e Pesaro invece terza sconfitta stagionale che fa da intermezzo alla vittoria nell'ultimo turno precedente ovvero quello in casa di Venice dove la VL aveva vinto 90-71 a 72. Bene, per questo video è tutto. Noi, in caso ci sono nuovi video, ci vediamo nuovamente. Buona domenica a tutti e alla prossima. Hasta la vista, buona, ciao!